L'amore è l'inizio di tutte le storie. Il mio nome è Chiara, ho 25 anni. Questo pomeriggio sono stata invitata qui per condividere qualcosa che ci è capitato. Lui sarà molto contento di sapere che è una femminuccia. Sì, davvero? Sì. C'è qualcosa che non va? Due mesi, un mese, poche ore. Ciò che conta è che abbiamo ricevuto questo dono. E non è una cosa che possiamo dimenticare. Un controllo. Ma davvero? Oh, che gioia! Ma non siete riusciti ad aspettare? Scusami. Amore, amo il nostro bambino più di ogni altra cosa al mondo. Ma non a questo prezzo. Aspetta, Chiara! La vita è come un ricamo di cui noi vediamo il rovescio. La parte disordinata. Ma la fede spesso ci permette di vedere un lembo della parte dritta. È il caso di Clara. Rù della pietà. Amore, amore. Che va bene? No. Ma la fede.